Pronto il progetto preliminare per il consolidamento del costone sottostante il Duomo di San Gerlando ad Agrigento, a predisporlo la struttura del Commissario straordinario per la mitigazione del rischio idrogeologico in Sicilia, guidata dal Presidente della Regione Nello Musumeci. E in contemporanea è stata finanziata anche, con 1,893 milioni di euro di fondi PAC 3, la progettazione esecutiva cantierabile, il cui bando verrà pubblicato dall'assessorato regionale al territorio e all'ambiente. La scadenza per la presentazione delle offerte è prevista entro la fine del mese di aprile. Gli uffici coordinati dal soggetto attuatore, Maurizio Croce, ipotizzano che la progettazione esecutiva possa essere acquisita e approvata entro la fine del 2018. Le opere previste, del valore di circa 17 milioni di euro, permetteranno di intervenire sulla collina ed eliminare diversi cedimenti che, negli anni, hanno interessato la Cattedrale di San Gerlando, causando anche la chiusura parziale del Duomo. Da tempo, forse troppo, afferma il Presidente della Regione, nello Musumeci si discuteva di intervenire per salvare il monumento fatto edificare dai normanni nell'undicesimo secolo. Adesso finalmente ci siamo, il primo passo è compiuto e per questo ringraziamento, continua Musumeci, va all'assessore del territorio e ambiente Totocordaro, alla struttura commissariale e al Genio Civile di Agrigento, che hanno redatto il progetto preliminare. Questo governo continuerà a seguire, continua Musumeci con grande attenzione, anche ulteriori step del programma, affinché, quanto prima, il Duomo possa essere restituito, nella sua interezza, a fedeli e turisti di tutto il mondo. All'inizio di dicembre, esattamente un mese dopo la sua elezione, il nuovo governatore alla Regione, nello Musumeci, aveva chiesto 90 giorni di tempo. Adesso è possibile dire promessa mantenuta.